Musica Sono state tantissime iniziative che abbiamo fatto come Spezia Vivi il Centro vi aspettiamo domani con il 18 con lo spettacolo di Work in Progress davanti al Teatro Civico dalle ore 16.30 fino alle 19.30 Naturalmente ci saranno nuovamente le letture delle fiabe con Susanna Varese in Corsocavura Alessandra Cerretti qui in Via del Prione quindi aspettiamo tantissimi bambini, ci sarà anche Babbo Natale, vero? E anche Babbo Natale, quindi vi aspettiamo tantissimi Musica